Questa mattina ad Agropoli le insegnanti e la dirigente del primo circolo didattico hanno promosso con i bambini una marcia della pace, una marcia per ricordare l'importanza e il valore della pace che i propri bambini sanno riconoscere. Un pensiero a tutti i loro coetani che in questo momento in Ucraina stanno vivendo momenti di terrore e di paura. Sono tanti anche i bambini sotto le macerie per vittime civili che ogni guerra purtroppo porta con sé. Divisi per classi per evitare assembramenti in questo periodo di Covid però i bambini non hanno voluto rinunciare allo stare insieme al vivere all'esterno nella piazza della Repubblica i loro sentimenti di vicinanza, di paura e di preghiera. Un solo grido che finisca la guerra, viva la pace. È questo che dal loro cuore i bambini gridano a tutto il mondo.